Ciao, oggi vi faccio vedere come fare il backup delle foto direttamente intanto che siete in vacanza. Prima di tutto andiamo sul programma VPN e creiamo una connessione verso il NAS. Se ce l'avete pubblicato, non serve, andate direttamente sull'applicazione Qfile. Ora apriamo l'applicazione del NAS. Una volta arrivati alle nostre cartelle, non ci resta che sfogliarle e scegliere dove creare la cartella delle nostre vacanze. Andiamo ad aggiungere una nuova cartella, nel mio caso la chiamerò con il mese, l'anno e la location di dove sono adesso. Una volta creata la cartella, non ci resta che andare sui tre puntini che troviamo in alto a destra e caricare le foto o i video tramite il nostro rollino fotografico. Ora andiamo a selezionare le foto che vogliamo salvare. Potrei selezionarle tutte, ma per questo video facciamo qualche esempio, quindi andiamo singolarmente a selezionare qualche foto e qualche video. Una volta terminato ci basterà cliccare carica ed attendere che le nostre foto siano uploadate sul nostro NAS. Ecco le prime due che possiamo tranquillamente cliccare e vedere direttamente in streaming. Queste sono come location a casa mia. Se avete disponibilità di connessione 4G utilizzate quello, oppure potete utilizzare il wifi dell'hotel. Come avete visto è comodissimo, così intanto che vi godete le vacanze le foto sono salvate sul vostro NAS di casa e qualsiasi cosa succeda al vostro iPhone, problemi non ce ne sono, almeno le foto non le avete perse. Ciao!